buon pomeriggio ragazzacci abbiamo improvvisato un po così sono... dove sto? manco lo so sono mezza verde però sto con il mio caro amico Claudietto de Ecutronica grande mappatore e gran pescatore e stiamo... dove stiamo? qui è terra tua quindi io qui mi astengo però mi stiamo in un posto e ancora dobbiamo vedere la parte bella però stiamo in un posto molto bello qui stiamo sul valico di chiunzi stiamo andando in costiana amalfitana e stiamo all'apice del valico di chiunzi e secondo voi stiamo male medio man guardate qua cioè noi si vede tutto il golfo c'è tutto il golfo di napoli vesuvio si vede fino a bacoli insomma è tutto l'interland napoletano tutto si vede è un palorama stupendo e questo è e poi ora andiamo a pesca andiamo a pesca crossati e pandati e dopo se andiamo a mangiare e domani mattina alba cioè evviva la vita secondo me stava male stagioniamo ciao ragazzi ciao stefanone